Ciao a tutti e bellissima tunica vero? Ora vi presenterò un paradosso Osservate, vedete che i gambali sono in ferro? Bene, sono in ferro? Non proteggono quasi nulla dal fisico Questo è uno dei peggiori paradossi che abbia mai visto Oh mio Dio No, no la trezza che fuoriesce dallo scudo No, ti prego Mi dà un fastidio E cominciamo bene Quelli con la lancia sono proprio un... Ah, posso fare i barri, giusto? Non è ora di fare pratica Aspetta che mi sembra che ce ne sia anche un altro Eeeh, ciao E' questo qua il tuo modo di combattere? Mi piace perché mi fai vincere Tutto quello che mi fai vincere mi va bene Frammento di titanite Qua ci fermate che è una meraviglia Ve lo dico già adesso Oh Qua, qua, al contrario di prima C'è tantissimo spazio Oh, più fortuna che l'ho stabbato Posso sapere che armi hanno? Quella mi sembra una spada dritta Wow Tac Già finito? Ma hanno una spada dritta Quelli là Mentre quelli là Con la lancia hanno Non ho la minima idea Io dico, vabbè Tanto a Norlondo qua è poco Non è che sia Trenta Non è che sia lunghissimo C'erano 50 metri Neanche Quello che deve scoprire dopo È abbastanza lungo Oh cavo Eeeh Ah sfida eh Va bene No sto qua gli occhi rossi È iniettato di morte È iniettato di mo- È iniettato di morte Addio Ci vediamo dopo No vabbè Facciamo un combattimento onorevole Tac Non lo stabbo Non lo stabbo Per fortuna che sono riuscito a stabbarlo adesso Se no Se no veramente io ho già visto la morte Ah ok Non fa il terzo Si Tattica Tattica Per usare gli spadoni Contro sti qua Rotolo Colpisci Rotolo Colpisci E dai Così che si vince con uno spadone Qua c'è qualcosa di importante Se c'era uno talmente forte A A metterlo da guardia Anima di cavaliere Scoraggiato Mi confondo sempre Non so se lo faccio apposta O se lo faccio per sbaglio I cavaliere sono già finiti Si Mi dispiace Peccato che in Anor Londo L'aveva chiusa Che su L'ivano ha chiuso Tutto anor Londo Per intrapolare di dei E per mettere altri A mangiucchiarsi di tutti Però Però Due cavaliere Messi là in croce Mi sembra che un po' pochetto Questa è una porta aperta E una vecchia conoscenza Esatto Lui Carbone del gigante E' proprio quello che pensate Il fabbro del primo Io non ho la minima idea di chi sia Ma voi lo sapete Ok Devo ancora consegnare di sti qua Sono indietrissimo Vabbè andiamo avanti Allora il carbone usato per l'infusione Ci siamo già Si dice che il fabbro gigante di Anor Londo Un tempo fosse il fabbro degli dei Lo era Si permette il fabbro Ok Armi Fulmine Semplici E del caos Ok Spero che diano qualcosa Uh sapete che figo Spadone Questo Aspetta No Non ce lo permette Non ce lo permette Magari la posso fare raffinata Ma vedrò Vedrò Se ho abbastanza Se mi conviene Sì altrimenti No qua Qua rascio Vi dico già Perché c'è C'è tanta Eccolo lì boss Perché c'è tanta brutta gente Dove sei Dove siete C'è tanta brutta gente Che ci bersa Eccolo lì Uno Rascia Va bene Non c'è nulla di problema La roba importante La prendiamo dopo Ok Così non serve che ci rifacciamo ogni volta Sta Cavolo Che non ci facciamo Ogni volta Sta tiritera qua Quindi dico Andiamo qua Che tanto Wow 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 Madonna mia Chi è Matrix Chi Matrix chi Entriamo Non sono beccati E ora Avete davanti a voi Aldrich Il divoratore degli dei O Aldrich Come potete vedere Come potete vedere L'abbiamo interrotto Mentre sta Oh Mentre sta divorando Stanco Lui sta ancora Che cavolo Sei brutissimo Aldrich Mi complimento con te Vuoi si cermi la mano Sì Mi sono fatto di stare anch'io Alla coda è molto debole Mi raccomando Sì sei anche una cacca umana No Come vedete Non ancora finito di divorare Come si chiama Non ancora finito di divorare Gwendoline Però Però È abbastanza È abbastanza potere Da riuscire a controllarlo O almeno Quel che ne resta Di Gwendoline Perché Buona parte È riuscita a divorarla È riuscita a controllarlo E usare i suoi poteri Come vedete Usa la sua stessa Lancia I suoi stessi poteri Tipo l'arco Con cui Usa le Scaglia le frecce Che sono la peggior Piaga di Gwendoline Cioè Ti fa un dolore Che Abbiamo Motto è Però Pensavo Veramente meno Si combattere in queste condizioni E abbiamo tolto poca vita Infatti non è un caso Che se colpite il corpo Il corpo Cioè Quello che è Gwendoline Gli fate meno danno No Danno normale Mentre se colpite alla coda Gli fate più danno Perché colpite aldrig Alla coda Mentre Ora Come un signore Come un signore Dei tizioni Deve essere È in stato di braccia Quando è verso Metà vita I'm sorry Ma gli spadoni Sono qualcosa Una piaga Oh Via Non vorrei Ora Spara delle palline In aria Ed è il punto Più lontano Eccolo lì Spawn Spawn No No cavolo Qua è una roba Pericolosissima Correte in tondo Si lo so Sembra una cosa Stupidissima Da cartone animato Uh Sono diventato Punta spilli Pare che siamo arrivati Allo stesso punto di prima Ora vi dirò un attimo La storia di aldrig Chi era Perché si Era qualcosa di umano Prima Aldrig Era Uno dei migliori Chierici della via bianca Solo che Col tempo Ha Utilizzato Grazie Grazie aldrig Grazie Per avermi interrotto Utilizzava un modo Un po' poco Un po' poco Ortodosso Per ottenere potere Ossia Bravo Ossia Divorava gli uomini E col tempo È diventato È diventato Ha ottenuto Tantissimo potere Ed è diventato Una specie di gelatina Quella che avete visto Nel video Nell'intero iniziale Di arcsus 3 Quando cominciate il gioco Quella che uscì Quella la roba gelatinosa Era aldrig Prima di divorare Gwendoline Grazie Che è Sono morto No Grazie palo A che servono i pali Però è fortissimo Posso solo complimentarmi Che Nel Nell'arti magica È veramente bravo Assorbito proprio tutto Da Da Gwendoline Veramente Dicevo E col tempo Ha addirittura Avuto dei seguaci Che lo veneravano Ossia Quelli che sono adesso I diacomi delle profondità Che hanno addirittura Attuato dei sacrifici Per fargli aumentare Di potere E quando Ha ottenuto Abbastanza potere È stato gettato Nella Nella fornace Della prima fiamma Per Per far sì Che diventasse un signore Perché ne aveva Già abbastanza potere E È diventato questo Questo Diventato la gelatina Che abbiamo Tutti conosciamo Come aldrig Crepa Ecco qui E un altro signore Redizioni è caduto Davanti a noi Se mi ammazzavi dopo Anima di aldrig O aldrig A me piace di più aldrig Poi Chi vuole intendere Intenda gli altri In camper Allora Le meditazioni di aldrig Sullo svanire Della fiamma Ispirarono Visioni di una nuova era Il dominio Degli abissi marini Sapeva che non sarebbe Stato facile Ma non aveva paura Avrebbe divorato Gli stessi Oli dei Adunque Dato che Aspirava Gli abissi marini Ha tentato Di diventare Una specie di gelatina Cioè che In modo che Podesse resistere Di più Sott'acqua Non so È una teoria mia Adè Si so che abbiamo Delle cose In sospeso Anzi Molte cose In sospeso Meglio che andiamo A prenderle E il falò Il falò Prima sediamoci 77.000 anime Non ho paura Non ho paura E cioè Se mi perdevo St'apparte qui Veramente Io non so Cosa facevo Quindi Sempre meglio Controllare Qua attraverso I pezzi di roccia E Diaconi Come state Ho ucciso Daldrick Vi sta male Questo qua Si è già arrabbiato Questo qui In un modo Un po' poco Consono Ma meglio Fali fuori tutti Perché ci sarà Qualcosa di temibile Molto temibile E cade E cade Oh Qui come vedete È un posto Un po' poco Un po' poco Coordinato Ma soprattutto Te Perché sono Abbastanza Fortini Sono abbastanza Irritanti Dopo un po' Au Questo non me lo aspettavo Ma in effetti Chi se lo sarebbe Aspettato Che ti prego Liberami Ti prego Grazie Perché c'è qualcosa Di veramente Temibile Si L'ho già detto 50.000 volte Ma voglio Esserne sicuro Questi qua Ce ne vogliono Due colpi Perché sono più grandi Vedi che contano Conta anche E tripletta Una Due Però non ti sta Buono se stai Usando un'arma pesa Si spadone È un'arma pesante Prova di un successo Do presa Si si Diciamo delle profondità Qua sopra Non c'è niente Tranquilli Ci saremmo scesi Da lì lo stesso E non c'è nulla Basta queste gelatine Bravo eh Ora C'è il nostro nemico Lui Quello Quell'essere In mondo Ne abbiamo già trovato uno E non è stato molto piacevole Oh È debole No State It Oh Non mi prendi Ti ho tolto veramente poco No Ci stiamo andando verso le gelatine Male 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 Usa lo stesso gas Dei Dei basilischi Quelli là con gli occhi giganti Con gli apparenti occhi giganti Perché gli occhi sono Sotto Mi ha tirato una culata Sbaglio Sembra un po' arrabbiato Vai Mori Si Ce l'abbiamo fatta al primo colpo Benissimo Ignoriamo Rubino di Rubino di Aldrick Aldrick Questo cancello qui È apribile Come nell'uno Infatti C'è anche un meccanismo apposito Dove è il meccanismo Questo Sei tu No sei tu Sei tu Ok Gira la leva Gira la ruota La ruota della fortuna Solo che qua si apre un cancello Dorato Ma un cancello Oh È sempre bello rivedere Lo sto cancello Che si Si apre Sono inzuppato di sangue Un'altra volta No Si vede moltissimo Sulla tunica bianca Che peccato Non mi ero mai accorto Della stato dei guine Vi saluto Che è stato un episodio relativamente cortino Aldrick Pensavo fosse più complicato Ma invece Però che schifo Qua per terra Di mangi sono già le donne Delle pulizie Che porconi Che tireranno Ma Non è una cosa Che ci riguarda Dicevo Spero che il video Vi sia piaciuto E spero che Continuerete a seguire Questa serie E le altre Ciao a tutti Grazie a tutti